Ti sembrassi tutto bello, ti sembrassi tutto bello, come un mondo adesso è Forse voi che siete di qui capite anche meglio di me che cosa vuol dire questo cartello qua l'8 e il 9 di giugno, in rivolta e tantissime altre persone combatteranno assieme per questa incredibile follia delle navi enormi dentro Venezia, se ci sarete anche voi la festa sarà più grande Grazie